Emergenza loculi al cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto. Qualcosa si muove. Sono stati infatti consegnati ieri mattina e sono praticamente al via i lavori per la realizzazione di 30 nuove sepolture che sorgeranno nell'area adiacente al cosiddetto palazzo cimiteriale. Come si ricorderà dell'emergenza si era occupata anche la nostra emittente la scorsa settimana documentando come la sola mortuaria del Camposanto della città del Longano fosse letteralmente intasata di salme. Una situazione difficile specie per i parenti dei defunti che al loro dolore vedevano aggiungersi un altro problema di non poco conto. Finalmente quindi i lavori partiranno e l'emergenza dovrebbe essere in qualche modo fronteggiata. A ciò si aggiunge la decisione dell'amministrazione comunale di affiggere sull'albopretorio del cimitero ed inviera tutte le prefetture le autorizzazioni scadute ed in attesa di rinnovo. Ciò al fine di ricavare altri ulteriori posti in caso di mancate conferme. Fermo restando che questi interventi non possono che essere visti come soluzioni tampone nell'attesa di una più radicale azione che deve coincidere necessariamente con l'ampliamento del cimitero nella zona di San Paolo. Un ampliamento necessario ed urgente per il quale l'amministrazione comunale sta cercando di dare seguito al progetto studiando le possibili soluzioni per l'espletamento della gara che così come ha affermato al nostro microfono una settimana fa dal vice sindaco Giuseppe Saia non è stato possibile espletare a causa delle situazioni legate al patto di stabilità. Intanto finalmente le salme in attesa potranno trovare una degna sepoltura.